Torna la paura per le scuole, alunna positiva a Torre del Greco. E' trascorsa una settimana esatta da ritorno alla didattica in presenza, disposta dal governo nazionale per le scuole primarie e le prime classi delle medie. Anche gli alunni della campania sono tornati tra i banchi dopo la lunga chiusura, nonostante la zona rossa. Dopo pochi giorni però a Torre del Greco è già preoccupazione per il nuovo rientro. Con una nota, l'asla Napoli 3 Sud ha comunicato ieri la positività di un'alunna della classe prima B della scuola primaria Don Bosco. La bambina era stata sottoposta a tampone nei giorni precedenti. E' stato quindi disposto l'isolamento domiciliare per tutti i compagni di classe e per i docenti che hanno avuto contatti stretti con l'alunna. I bambini potranno essere riammessi a scuola, salvo diversa successiva comunicazione. Trascorso un periodo di quarantena ai 14 giorni dall'ultima esposizione al caso, quindi fino al 23 aprile, previo esito negativo di un tampone effettuato. E' naturale quindi che la preoccupazione ritorni ai mesi scorsi, quando i contagi iniziarono a diffondersi a catena, con interi plessi scolastici costretti a chiudere per settimane. Una situazione ingestibile che continuò fino alla drastica scelta di chiudere le scuole.